8 miliardi di fondi europei fermi in regione Campania, così come i residui dei risparmi delle gare già espletate ed ancora trasporti pubblici, politiche e sociali, ma anche decreto sviluppo del governo. Intervenendo all'attivo unitario dei sindacati in vista dello sciopero del 2 luglio a Napoli, il sindaco di Salerno non ha risparmiato critiche al governo regionale e nazionale, elencando una serie di punti dai quali potrebbero dipendere sviluppo ed occupazione. Le critiche più aspre, come al solito, De Luca le ha riservate per Palazzo Santa Lucia, accusato di immobilismo per l'erogazione dei fondi europei, ma anche per non avere equiparato i corrispettivi chilometrici erogati alle aziende salernitane di trasporto pubblico a quelli napoletani. E poi il governo Monti con il decreto sviluppo che per funzionare a pieno dovrebbe portare all'individuazione di progetti esecutivi immediatamente cantierabili per far ripartire l'economia. Per l'amor di Dio nessuno immagina che ci possa essere una svolta domani mattina, ma un elemento di sburocratizzazione, una capacità di concretezza, la capacità di usare perlomeno risorse che ci sono disponibili, questo credo sia doveroso pretenderlo da parte della Regione Campania soprattutto. È importante che questa avvertenza a Salerno avvenga sulla base di un criterio di rigore, di serietà, sul rifiuto della demagogia perché i tempi sono difficili, ma anche sulla base di una grande combattività e di un grande rigore. Nel campo dei grandi progetti il 90% delle risorse è destinato ad altri territori. A Salerno arrivano le briciole, alla città non arriva proprio niente. Sullo sfondo la necessità di creare una piattaforma unica delle vertenze salernitane e la richiesta da parte dei sindacati alla Regione Campania di attivare un tavolo di confronto. I vari territori regionali inoltre dovrebbero fare sistema e mettere da parte le divisioni per superare la crisi. Dobbiamo avere un'idea di questa regione, qual è l'idea dello sviluppo, qual è l'economia del turismo che vogliamo costruire, come mettiamo in collegamento i porti piuttosto che litigare, come mettiamo in collegamento e coniughiamo gli aeroporti piuttosto che farli competere tra di loro. Se c'è un'idea di sviluppo noi riusciamo anche a dare lavoro e ad incontrare anche quelle tante solitudini che spesso nessuno incontra. Noi abbiamo casi eclatanti, suicidi di imprenditori, di lavoratori perché si consuma nella solitudine una condizione drammatica per tutti coloro che perdono il posto di lavoro. Ci sono le grandi vertenze che hanno i titoli sui giornali e nelle televisioni, poi ci sono il dramma e i drammi che nessuno vede, la piccola bottega artigiana piuttosto che la piccola azienda di famiglia. Io penso che noi dobbiamo fare un progetto anche per incontrare quelle solitudini.